Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Oggi è un video un po' particolare, non è un solito video, diciamo un gameplay, un tutorial, una cazzata varia diciamo È un video un po' particolare perché andiamo ad analizzare un problema che non riguarda YouTube O meglio, sì, lo riguarda ma in un'altra forma, ora capirete il perché Ma riguarda diciamo un po' tutto, tutta la community Di un gioco particolare che chiaramente avrete capito forse dal titolo, dall'immagine, cioè FIFA Ma andiamo ad analizzare un po' questo video Allora, lo sto facendo perché chiaramente molti di voi che mi seguono su Instagram, su Google Plus e su cazzate varia Insomma, sto senza computer, o meglio si è fuso praticamente l'hard disk Quindi, mi è arrivato quello nuovo, ora lo sto montando un casino Lasciamo stare Devo risalare Fraps, Minecraft, lasciamo stare Lasciamo stare che è meglio Quindi, ho deciso proprio per non lasciarvi senza video Di fare due o tre video dal telefono Ora, questo è il primo Poi ne usciranno quelli di Geometry Dash Ve lo anticipo già E un altro video del genere che però parla di un'altra cosa Allora, oggi andremo ad analizzare FIFA Un problema che, diciamo, già dalla scuola, da FIFA 14 Si è presentato a molti utenti E in FIFA 15 era veramente raggiunto forse il suo top Allora, proprio, diciamo, un mesetto prima che uscisse FIFA 15 Lei ha confermato che la vendita di crediti da parte di alcuni siti E l'acquisto da parte dell'utente Sono illegali E la, diciamo, la pena sarà Chiusura dell'account e dei siti Che forniscono questo servizio Sostanzialmente E, anche se sono da santi Ora non so da cosa dipende Una pena dal punto di vista monetario Insomma, una pena soldaria No, come cazzi di... Vabbè, sparo cazzate È normale Ora, che cosa succede? Come molte società fanno Ecco, e questo non rimprova dalla IEA alla fine Perché succede molte volte Diciamo che è una mezza cazzata Ovvero, ci sono molti siti Anche da molti youtuber potete vedere che acquistano crediti E non succede una beata minchia Ok? Questo è il punto Primo punto Quindi la IEA, diciamo che Se n'è fottuta Però Iniziamo a vedere dal punto di vista moralistico Madonna, come cazzo sono acculturato oggi Quanto è sbagliato? Acquistare crediti Allora, acquistare crediti Perché è sbagliato? Perché Ultimi team Da sempre Io li ricordo proprio FIFA 12 FIFA 12 Perché FIFA 11 Non mi ricordo se c'era già Boh, faccio una confusione tra i FIFA Vabbè Ultimi team è nato proprio, diciamo, con Partita Crediti Stagione Crediti Crediti Compri pacchetti Rivendi giocatori O Compri giocatori Diciamo, sempre con questo business Alla fine Devi avere il culo Trovare Ronaldo Te lo vendi Eccetera Ok Perfetto Che è successo Diciamo Da FIFA 13 In su No Da FIFA 14 In su Scusate Che Molti siti Vendono Iniziate a vendere crediti Ora andremo ad analizzare Un po' Di questi siti Ora Quindi molti utenti Hanno fatto le squadre Big Forti Ultra Power Eccetera Eccetera Con questi siti Che voglio dire Vendevano crediti Anche a prezzi abbastanza bassi Se vogliamo E quindi loro Compravano Ricevano questi crediti Spacchettavano Se si tratta di youtuber Oppure si facevano una squadra Ora Io Voglio Difendere per una volta La community Di youtube italiana Perché Parlando Senza fare i nomi Parlando di alcuni youtuber Anche del mio network Che comprano i crediti Per spacchettare Ci può stare Ok Per attrare il pubblico Diciamo Per una serie di motivi Attrare il pubblico Eccetera Eccetera Che magari Ci può stare Non voglio dire niente Ecco Ma Che Diciamo Un utente Che non fa video su youtube Prende i crediti Per comprare i giocatori Mi sembra veramente Cioè Ultimi team Non avrebbe senso A quel punto Vai a fare la stagione La squadra Già fatta A questo punto Che succede Tu Ti fai Lo squadrone Che cazzo di Che cazzo di senso ha Ora ditemelo Non è più comodo fare la stagione Non spendi soldi No Perché il bimbo Minchia Deve fare il figo Magari Anche Pensate Non sanno manco giocare Tu ti trovi In divisione Con Tu che hai la squadra Brunzina Magari all'inizio Questo c'ha Tutte di Maria Tutti Cristiano Ronaldo Tutti Cristiano Madonna Tutti E magari Vinci tu Perché questo non sa giocare Si Telefono Vaffanculo E E quindi Diciamo Questo Già è abbastanza Scandaloso Io voglio difendere Ora Passiamo proprio Al primo sito La prima Diapositiva Che è Golda.com Andiamo proprio A disseminare Questi siti Allora FIFA 15 coins 500.000 Crediti 9,78 USD Che dovrebbero essere Dollari Può essere 99 euro Vabbè Questo deve essere Proprio Unico Che si compra Vabbè In ogni caso 5 milioni Di credit 99 euro Non so Chi cazzo Si può comprare Magari uno youtuber Appunto Ora Quindi Che senso ha Se non sei youtuber Allora Già Normalmente Se sei youtuber Io Cioè Personalmente Io non li spenderi mai Anche se avessi Un milione Di iscritti Anche se fossi Pudipa Pudipa Eh si Is a party pie Non li coprirai mai Cioè Ma Per una cosa mia personale E quindi Diciamo questo Pi o meno Lo ha questo Un problema Ora Negli ultimi periodi Ho visto proprio Da alcuni youtuber Questo sito qui E non voglio fare Lo stesso nome Che è veramente Qualcosa di scandaloso Ultimate Team Coinback Questo sito qui Che cosa è Sostanzialmente Questo sito Allora Vi mette a disposizione Questi pacchetti Il Motim Pack Che costa Circa 40 euro E 50 Che ti da Praticamente È uno spacchettamento Online In questo sito Di Che praticamente Sicuramente Senza una Perciutazione Sicuramente Ti da Un giocatore Motim Cioè un giocatore Praticamente Team of the match È due If Due in forma Ok Il Motim Pack Il triple if pack Ti da Tre Player Tre giocatori if E c'è anche La possibilità Che c'è Leonardo Vabbè E così via Diciamo Ci sono quelli Toti Quelli Insomma Abbiamo capito Allora Io posso capire I credit Gli youtuber Ma questo sito qui Per Magari I credit Anche per spacchettare Per far divertire La gente Ma questo sito qui Che ti offre I giocatori O meglio Tu spacchetti Trovi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vale 4 milioni Di crediti Loro ti danno 4 milioni Di crediti Ok Sostanzialmente È questo E tu ti copri Il giocatore Ma Veramente Cioè A che cosa può servire Un sito Che non è Neanche il prescio Che ti deve uscire Il giocatore Già Già ti esci Sicuramente Al 200% Che cazzo Di senso ha Se qualcuno Ha Poi la risposta A questa domanda Io Una risposta sensata Non una risposta di merda Chiaramente Io mi faccio i cazzi Medico Ho sbagliato io E tutto finisce lì Ma me la dovete dare Me la dovete trovare Ehm E quindi questo Cioè Io ho voluto fare questo video Proprio perché mi serve Veramente Una cosa Indignosa Non riesco Neanche a dire Proprio Cosa Cosa può essere Più brutto Di questo Cioè come rovinare Una modalità Veramente Che ci invidiano Invidiano Tutto il mondo Cioè Quella di FIFA L'ultimi team Per essere provato a copiare L'ha fatto una mezza cagata Lì Boh Io Non Sinceramente Non capisco veramente Come si possa rovinare E io Non accuso Soltanto Chi li va a comprare Ma accuso La IEA Che non fa un cazzo Accuso I siti Che lo fanno Perché Chiaramente Loro fanno Per il business E questo Ci può anche stare Magari vivono Di questo lavoro Diciamo Ma anche Chi li compra Che sono veramente Diciamo I bambi I bimbi minchia La definizione Di bimbo minchia Ho cercato La sua vocabolaria Il bimbo minchia Va 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 Tutto felice Va Va Mi compri 99 euro Di crediti Cioè Se fossi io Gli menerò Un ceffone Destro-sinistro Luca Travol Però Diciamo Ma Diciamo Io non avrei Se fossi stato Il bimbo minchia Il bimbo minchia Non avrei manco Il coraggio Di chiedere 99 euro Di crediti Per un gioco Per un gioco Un quanto Gli youtuber Che magari Li riguadagnano Poi con la partnership Ok Questi soldi Ma Veramente E quindi Con questo Concludo Se avete qualche domanda Qualche risposta So che mi sono sicuramente Dimenticato qualcosa Fancazziando Da una parte E dall'altra Ma È normale È normale Ragazzi E Come è uscito Questo video Vi voglio soltanto dire È uscito Perché Come tutti i giorni Più circa Ora ci sono anche Di giorni che non posso All'ora di pranzo Verso luna L'una e mezza Due Tutti noi Community Dell'EastGamer Scendiamo in stanza pubblica Io Zeb E alcuni Diciamo altri Youtube La ragazza di Zeb Anche Scendiamo In stanza pubblica E parliamo con voi Facciamo domande Lidiamo Scherziamo Bagniamo un sacco di gente Anche Vabbè È appunto È uscito Questo Questo discorso Ora Zeb non gli affrica Un cazzo Diciamo Sarebbe stato lui A voler fare il video Ma Non gli affrica un cazzo Perché non gioco a fifa Sostanzialmente è questo E quindi Io che In primis gioco a fifa Mi è importato farlo E quindi È solo questo Diciamo Quello che ho voluto dirvi Poi Vi farò domani Dopodomani Ora vediamo un po' Un altro video Che riguarda però La nintendo E youtube Ora Esamineremo Diciamo con quell'altro video Io vi ringrazio Dalla visione Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di mettere mi piace Condividere Iscrivervi Passare da macellacchi Ma io Volo È la pagina Instagram È la pagina Di Google Plus Perché vi Tenga giornati Facciamo cazzate Vari E Bye